Suoni ed applausi da stadio ieri per il nuotatore maltese Neil Agius del 34 anni arrivato intorno alle 9 e un quarto davanti le coste maltesi a San Giuliano dopo una nuotata lunga circa 100 chilometri quelli che appunto separano la Sicilia dall'isola dei cavalieri ed ha partito da Punta Braccetto all'alba del giorno prima in totale poco meno di 30 ore di nuoto in interrotto per una giusta causa quella dell'ambiente una traversata tra le due isole per prendere parte alla campagna Wave of Challenge Malta contro l'inquinamento dei mari ha nuotato senza sosta e senza assistenza in nessun momento gli è stato nemmeno premesso di toccare le barche che lo accompagnavano Agius ha spiegato che mai si è arreso nonostante a volte venisse sopraffatto dalle emozioni ero determinato ha commentato il nuotatore maltese a completare con successo questa sfida con l'obiettivo di ispirare gli altri con lui sempre presente però un team di 16 persone e tra loro non solo medici ma anche motivatori che senza tregua hanno collaborato al raggiungimento dell'obiettivo per il campione olimpionico quindi un nuovo successo nel proprio curriculum quello di aver portato a termine la quinta traversata più lunga al mondo ma è percorsa in mare aperto prima di ieri solo un altro maltese Nick Farruggia era riuscito ben 35 anni fa a completare l'impresa grazie a tutti